Anche Sanremo aderisce al Pasta Pesto Day, l'iniziativa di solidarietà organizzata dalla regione Liguria per rilanciare Genova e tutta la regione a seguito della tragedia del Ponte Morandi. Si tratta di un progetto di livello internazionale che vuole sensibilizzare i ristoratori in Italia e nel mondo a inserire nel menu un piatto di pasta al pesto, con possibilità di destinare ricavato la raconda fondi gestita dal Comune di Genova. E' stato scelto proprio il piatto di pesto in quanto rappresentativo della nostra cucina regionale e in particolare icona dell'enno gastronomia del nostro territorio a livello internazionale. Il Servizio Attività Produttive e Mercati del Comune di Sanremo, guidato dall'assessore Barbara Biale, ha quindi scritto alle associazioni di categoria per la diffusione dell'iniziativa presso i titolari e gestori di ristoranti, gli agriturismi e in generale gli esercizi di ristorazione associati. Dopo l'adesione dello scorso anno alla settimana del pesto, spiega l'assessore Biale, abbiamo deciso di partecipare con molto piacere a questo nuovo progetto che, in più, ha un forte valore sociale di aiuto nei confronti di chi, purtroppo, è in condizioni di estrema difficoltà a seguito della tragedia del Ponte Morandi. E l'abbinamento territorio-cibo diventa anche binomio di forza per la promozione in previsione della prossima settimana della cucina italiana nel mondo, che si svolgerà dal 19 al 25 novembre. Grazie a tutti.